E' iniziata questa mattina e si concluderà domani sera la due giorni di calcio a 5 organizzata al campo sportivo Don Bosco di Bolzano, in ricordo di Paolo Scovotto, stroncato nel 2012 a 39 anni da un attacco cardiaco. Molto noto nell'ambiente sportivo bolzanino per il suo impegno come giocatore e preparatore in alcune squadre di calcio a 5, ha lasciato un grande vuoto. Ecco perché alcuni amici hanno dato vita al Memorial in suo onore, in tutto 12 le squadre partecipanti al torneo, Febbre Gialla, Fantashef, Barmalù, FFA, Outsider, Kickers, Mosaico, C5, Nordic, Fantadieci, Allstar e Sam, Chuck si gira, tutte accomunate da un unico scopo. Ma principalmente passare del tempo assieme con tutti gli amici di Paolo e secondo fare della beneficenza, di conseguenza abbiamo diviso in due l'incasso, la ristorazione andrà alla famiglia di Paolo mentre l'incasso dell'iscrizione abbiamo deciso di devolvere alla Medicus Comicus, quindi i dottori clown, nello stile di Paolo che era sempre prodigo di sorrisi. Come sentito le quote di iscrizione delle 12 squadre partecipanti andranno all'associazione Medicus Comicus, i dottori clown che con la loro attività ed opera cercano di donare un sorriso a tanti bambini negli ospedali della provincia di Bolzano. Il ricavato della ristorazione invece sarà devoluto a Rita, compagna di Paolo e ai suoi quattro figli, un modo per ricordarlo e festeggiarlo in due giorni di calcio, sport al quale era molto legato. Paolo nella vita è sempre stato una persona che dispensava sorrisi a tutti, mai triste, di conseguenza quando ci è stata prospettata la possibilità di dare della beneficenza abbiamo subito deciso di darlo ai dottori clown che era il suo stile. La premiazione finale è prevista domani, domenica intorno alle 19 dove per l'occasione saranno presenti anche alcuni clown dell'associazione Medicus Comicus.